Il primo bacio e a chi dà le date? Il primo bacio ho dato... Oddio! Non lo ricordo neanche più... Eh, vabbè, qua è personale. Come fai a non ricordarti il primo bacio? Eh, era 15-16 anni. Vabbè. Le date? Eh, ovvio. Sì, cavolo. Penso 11. 14, 12, 13, sempre a Ponte d'Era. Da gita scolastica alle medie. Chi rimorchiava di più ai tornei con i juniors, che ti ricordi, ad andare in giro? Io non di certo. Sì, al figlio i juniors ero bravino. Bravino, bravino, eh. Devi invitare a cena una tennista. Chi inviti? Vabbè, ce ne sono diverse. Eh, tipo? Mi piace ho fretta. Ma te veramente vuoi sapere? Eh, certo, io per finta. A Sabalenca mi piace. Bouchard. Una tennista. A cena, eh, a cena. La ragazza di Matteo non la dico, eh. No, la ragazza di Matteo no, no, perché... Non l'ho mai vista dal vivo, com'è? Molto bella, molto bella, molto bella. Un'altra, un'altra... Di Achenco. Un tennista italiano che inviteresti a cena? Oddio, Marco è un po' geloso, eh. È un po' gelosino, sì. Vabbè, dai, una cena. Però... Ce l'ho, Pietrangeli. È un po' gelosino, 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 è un po' gelosino. Grazie.